a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi come sembra la solita colazione insomma due uova un rosso un giallo la fettina di pane di segale mezzo blu di avocado un viola ho preso la banana poi ci sono le mie vitamine e la tisana drenante vado a mangiare perché ho un pochettino fame allora oggi per pranzo due verdi di crauti li ho fatti semplicemente in padella con un goccino d'olio un po di soffritto e poi li ho fatti andare ci ho messo l'aceto basta che niente di questi due sono hamburger vegetariani uno ai broccoli e uno alle melanzane con pomodori secchi non valgono rosso ma sono gialli quindi due gialli oggi a pranzo mangio questi hamburger poi un cucchiaino di maionese che va nei cucchiaini e la sena perché è free e basta ci vediamo più tardi per la merenda ed eccomi finalmente è arrivata la cena l'ultima cena allora mi sono fatta per tutti la pizza e io l'ho fatta proteica quindi praticamente ci ho messo sopra la salsa di pomodoro il formaggio una scatoletta di tonno un po di prosciutto le zucchine la cipolla e basta direi che potevo stare e vale nessun giallo perché appunto è proteica e vale un due rossi adesso dopo cena mangio una banana come spuntino serale prima di andare a dormire 1, 2, 3, come on come on come on ha oh 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 ho it oh 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 Grazie a tutti.